Iniziona Johnson, finita un paio di volte il tiro, aspetta l'inserimento di Sterling, la palla è precisa e c'è rigore subito per il fallo di Jones Ha provato l'entrata inscivolata, se Brendan Rodgers rimanderà sul dischetto Ricky Lambert Gerrard contro De Gea e c'è il vantaggio del Liverpool, 1-0 Stephen Gerrard su calcio di rigore, sblocca la finale Ci sono assolutamente dubbi sulla bontà della decisione dell'arbitro, con calma Gerrard cerca la profondità, buono il controllo di Hernandez, il cross verso Rooney E c'è il pareggio dello United dal decimo minuto del secondo tempo, un grande gol Lo United, battle cross perfetto da parte di Hernandez e poi il tocco da campione di Rooney, sul secondo palo a prendere in contropiede Mignole Controllo di show, tocco breve, limite nell'area, Mata, Manchester va addirittura in vantaggio, improvviso, 1-2 Rivalta la situazione dello United, al dodicesimo con Juan Mata dello United Andiamo a rivedere, eh sì la direzione c'è stata, di sacco Poi il pareggio al decimo di Rooney, decimo del secondo tempo e Mata, al dodicesimo per il 2-1 Palla non è buona Copito Sosteno della porta, invece sì c'è il gol di Rooney Ok, andiamo a rivedere Forse invece colpisce la traversa, il rimbalzo, però è assolutamente particolare Gol di Rooney, dunque Qua si vede meglio Oh, palla è fuori, che robin